All'Ufficio Internazionale Cattolico dell'Infanzia Papa Francesco ha ribadito l'importanza di portare avanti i progetti contro il lavoro schiavo, contro il reclutamento di bambini soldato e ogni tipo di violenza sui minori. In positivo, ha detto il Papa, occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo allo sviluppo e alla maturazione affettiva. Con i bambini e i giovani poi non si può sperimentare. Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX, ha detto il Papa, non sono spariti. Conservano la loro attualità sotto veste diverse, proposte che con la pretesa di modernità spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del pensiero unico.